Per quanto concerne le opere pubbliche, ho visto che nel volantino che l'amministrazione comunale ha diramato tra le cose che aveva ereditato dal passato, dice il parcheggio, il PUC di San Pietro e l'ex ospedale. Ma credo che questo possiamo dire che gli erediteremo anche noi quando arriveremo a Palazzo Pretorio. Sinceramente ho messo piede nel parcheggio di San Pietro, un eco-mostro che va sistemato prioritariamente il più presto possibile. Il primo possibile perché è un male che si sta estendendo alla parte superiore della città. Ovvero la mancanza di un appoggio di parcheggio crea anche la diaspora delle attività commerciali dal corso. Come è tra le tante opere pubbliche, è importante creare qualche parcheggio affinché non si crei proprio una desertificazione di popolazione stabile nel centro storico nella parte alta. Abbiamo intenzione di riprendere un vecchio progetto che prevedeva un parcheggio dietro l'ex pretura, quindi con vari orti che possono essere sicuramente svuotati e adibiti a parcheggio per gli abitanti della parte superiore del centro storico. Altra opera pubblica estremamente importante è ridare una configurazione all'ex ospedale che anche questo dicono di averlo ereditato dal passato ma sicuramente in dieci anni non hanno ancora capito che cosa farci. L'ex ospedale può essere adibito a Casa della Salute come c'è già ovviamente un progetto in fase di valutazione ma potrebbe essere anche la sede unica degli uffici comunali in maniera tale da poterne efficientare le attività. Queste sono le due principali opere pubbliche che vediamo e che dobbiamo sistemare prioritariamente e insieme ad una riprogettazione vera di Piazza 40 Martiri che è stata presa in considerazione solamente da un punto di vista orizzontale e non da un punto di vista verticale anche con il discorso logge dei tiratori che è comunque pur essendo privata ma nella logica tra pubblico e privato per una funzionalità totale della piazza sicuramente deve essere presa in considerazione con un progetto serio, vero e funzionale. I lavori pubblici sono la parte più importante di questa città su cui bisogna mettere attenzione. Non è pensabile avere ad esempio una città con un centro storico meraviglioso come quello di Gubbio che prevede delle strade, penso a Via della Repubblica fatte con il bitume e con l'asfalto. È uno dei più grandi fallimenti nelle promesse dell'amministrazione Stirati che finalmente lascia la guida di questa città perché si erano impegnati alla ripavimentazione totale del centro storico nella realtà è stata fatta solo per quello che riguarda Via Caevoli e poi niente più. Noi abbiamo nel programma, nei primi due anni la sistemazione totale del centro storico e ovviamente i lavori pubblici per quello che riguarda anche il mondo esterno al centro storico faranno parte importante della nostra attività. Sul tema dei lavori pubblici qui ci si caratterizza tutto quello che è il nostro progetto. Il nostro progetto che è basato su un nuovo metodo di amministrare. I lavori pubblici, soprattutto su una città come Gubbio una città storica così delicata, così preziosa debbono avere un impianto e un'impronta molto precisa. I lavori pubblici abbisognano di metodo per noi metodo significa in primo luogo informazione e coinvolgimento dei cittadini nella definizione dei principali lavori da fare concorsi di idee affinché quando si fa un progetto si è sicuri che quello è il miglior progetto possibile e non come ora su Piazza 40 Martiri che ci ritroviamo a vedere cambiamenti di progetto mentre ci sono gli operai che lavorano e dall'altro, altrettanto importante, una programmazione dei lavori. Non è possibile che si fanno tutti i lavori in sei mesi prendendo soltanto la motivazione che dobbiamo spendere le risorse. Una pianificazione dei lavori è fondamentale, non si può bloccare una città e soprattutto le persone devono essere informate di quando verranno fatti i lavori. Quindi noi pensiamo che il metodo e la pianificazione e la programmazione oltre che coinvolgimento dei cittadini sia fondamentale in materia di lavori pubblici. I lavori pubblici vanno rimodulati sulle esigenze dei cittadini. Io credo che bisognerebbe tornare a fare più assemblee partecipative con la cittadinanza e scegliere quali sono veramente i lavori utili a tutti e non i lavori spot che magari vengono usati per mere campagne propagandistiche ed elettoralistiche. Io credo che veramente ci sia bisogno di riformulare un rapporto cittadino-ente comune affinché la prossimità e la vicinanza anche a chi abita nella casa sparsa più lontana di questo territorio si possa sentire un attore protagonista e possa scegliere anche lui su quello che è l'intervento più importante da fare in quell'area, in quella frazione, in quel territorio. Il lavoro dell'amministrazione uscente lascia alla città di Gubbio circa 40 milioni di euro di nuovi investimenti. Lascia un patrimonio di edilizia scolastica efficientato e sicuro dal punto di vista sismico quindi la nostra proposta per i lavori pubblici della nostra città è quella di andare a portare a completamento le grandi opere in corso come Piazza 40 Martiri e altre pavimentazioni nel Centro Storico come Via 20 Settembre, ad esempio. È fatto di un lavoro di cura anche più minuziosa del Centro Storico con delle convenzioni con soggetti che sono esperti della cura della pietra e del rispetto del Centro Storico e della nostra città e i lavori pubblici comprendono anche una serie di interventi che sono a beneficio di tutte le frazioni. È necessario dover intervenire in alcune delle frazioni con nuovi CVA parliamo ad esempio di Torre, di Mocagliana o anche di Fontanelle dove è necessario un nuovo impianto sportivo parliamo del recupero di edifici dismessi qui ci troviamo a Padule e l'ex scuola è un tema importante come lo è quello dell'ex scuola di Semonte dopodiché sono importanti alcune via di collegamento come ad esempio quello di Via Madonna dei Perugini che è in poche parole la parallela di Via Beniamo in Ubaldi che sarà una delle prime opere che partirà al momento del rinnovo della Giunta Certo, c'è bisogno di molti lavori pubblici e c'è un limite di spesa che è dato dai quattrini bisogna scegliere guardando a lungo periodo tra spendere un milione e mezzo per Piazza 40 Martiri magari per fare una via semi-meccanizzata di Piazza 40 Martiri e finire finalmente il parcheggio di San Pietro io credo che la priorità vada data al parcheggio di San Pietro e la Piazza dei 40 Martiri poteva restare come era con il suo bel giardino ottocentesco non c'era niente di male ci sono molti edifici pubblici in centro che vanno riconvertiti a un uso che favorisca il ripopolamento della città dalle orfanelle alla vecchio ospedale e questo va fatto con una visione di lungo periodo cioè mescolando per esempio residenze per anziani con mense o asili per bambini o residenze per anziani con affitti diciamo appartamenti in affitto agevolato per giovani coppie bisogna cercare di ritornare sopra i 30.000 abitanti questa è una priorità molto importante e io credo che sia una priorità anche nella scelta dei lavori pubblici da fare grazie 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 grazie